Buonasera a tutti amici, oggi è il 3 gennaio, si festeggia 70 anni della Rai con le castagne, a bagno col vino e vai, mo me la mangio tutta. Evviva la Rai, anche se oggi non si vedeva, è da 4 giorni che non si vedeva, il segnale è ritornato stasera, pomeriggio.